Mercoledì 2 marzo 2022 in via Pergolisi 2 a Tavullia inaugura il Conad City, un punto vendita affidato alle sapienti mani dei due nuovi gestori Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini. Il restyling è stato brevissimo perché abbiamo tenuto chiuso il punto vendita solamente un giorno, questo per dare continuità di servizio. È stato un restyling non profondo, non siamo intervenuti sulle strutture ma sugli assortimenti sì e sul cambio gestione. In effetti questo più che un restyling è un cambio di gestione. La socia Manuela uscente passa il testimone ad Alessandro e a sua moglie Cosetta. Quindi l'intervento è stato e sarà molto più profondo dal punto di vista assortimentale, di rifornimento e di rapporto con il territorio piuttosto che di imbellettatura e di strutture. Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini sono i due gestori marito e moglie del nuovo spazio Conad City di Tavullia. Una giornata importante oggi, solo un giorno di chiusura e si riapre. Avete fatto un restyling a tempo di record? Abbiamo fatto un restyling a tempo di record. È stata una scommessa che abbiamo raccolto molto volentieri. Quindi è abbastanza difficile ma molto volentieri perché vogliamo rilanciare con tutte le nostre forze, tutto il nostro gruppo, vogliamo rilanciare questo negozio e vogliamo instaurare con la comunità un bellissimo rapporto di tutto. L'orario è continuato dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12.30. Per noi è chiaramente una necessità perché sono punti che oltre ad essere un'attività commerciale è un servizio per i cittadini a portata di mano quindi all'interno del centro abitato, in questo caso di Tavullia e del capoluogo. Conad che già era presente però in questa veste rinnovata e sicuramente ampliata anche nell'offerta e nei servizi. Siamo sempre molto contenti quando un'attività apre o si rinnova, comunque investe sul territorio perché lo abbiamo visto anche negli anni di pandemia, avere un punto di rifornimento, di prima necessità, un servizio per i cittadini è importantissimo perché poi l'abbiamo provato sulla pelle, non si poteva andare altrove se non all'interno del proprio comune e questo è stato importante. Questo ampliamento ha comportato anche assunzioni e personale locale? Hanno confermato tutto il personale che era già dipendente del punto già esistente e è cambiata la gestione in questo caso di ragazzi che abitano vicino a Tavullia però hanno confermato tutto il personale dipendente che c'era in precedenza quindi anche questo è importante.